Il conflitto non risolto è un grandissimo ostacolo, questo ve lo posso dire. A me non dispiace il dialogo, possiamo dibattere quando vogliamo una mattina a una sera. Poi bisogna decidere, llegar a desire and move it on. Bisogna condividere gli obiettivi e quando uno perde, perde. Io ho perso parecchie volte in vita mia, le mie opinioni sono state ignorate, magari avevo anche ragione, non l'ho mai detto, te l'avevo detto, io che c'avevo ragione. Anche l'eleganza di poter perdere in maniera intelligente. Il problema di questo paese è che qua continuiamo a votare fino a quando non vincono tutti quanti. Non funziona, no?